Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Rende, Domenico Miceri, dopo che un cittadino nei giorni scorsi ha perso la fede inunziale, 400 euro ed un orologio giocando in una sala giochi con le slot machine per non raccontarlo alla famiglia ha simulato una rapina che gli è costato anche una denuncia dai carabinieri per simulazione di reato, ha presentato una proposta per regolamentare il gioco d'azzardo in città in modo da arginare un fenomeno sociale sempre più allarmante. Una questione che è stata evidenziata anche da parte del Movimento Slot Mob di Cosenza che da tempo denuncia le problematiche legate alla diffusione dell'azzardo e organizza iniziative per premiare i bar che hanno deciso di rinunciare all'azzardo. Slot Mob ha ritenuto anche di scrivere una lettera aperta ai sindaci di Rende, Cosenza e Castro Libero nonché al prefetto e a tutti i consiglieri comunali delle tre città per chiedere l'istituzione di un tavolo di lavoro comune finalizzato alla rapida redazione di un regolamento sulle sale da gioco. A Rende il Movimento 5 Stelle con la proposta presentata all'amministrazione comunale ha chiesto di disciplinare il gioco d'azzardo sul territorio comunale in termini di controllo per il rispetto delle leggi vigenti, di limitare gli orari di apertura, di distanza dei luoghi sensibili, di coinvolgimento di associazioni, volontari, scuole, barrocchie, forze dell'ordine, istituzioni a iniziative di promozione sociale di adesione al nuovo protocollo predisposto dalla prefettura di Cosenza finalizzato alla prevenzione e al contrasto alle dipendenze patologiche. Un appello proposta che potrebbe trovare anche il parere favorevole di altre forze politiche presenti in consiglio comunale. Per essere operativi fin da subito, dichiara il consigliere comunale di Rende pentastellato Domenico Miceri, invitiamo il Movimento Slot Mob a sposare una delle nostre idee contenuta nella proposta generale fatta qualche giorno fa all'amministrazione comunale, facendosi promotore di un concorso di idee tra le scuole dell'area urbana Cosentina per la creazione di un logo adesivo da applicare all'esterno dei locali che rinuncino a ospitare l'offerta di gioco d'azzardo. Si potranno così informare, conclude Miceri, i cittadini sulla scelta del gestore, come premessa a un consumo informato. La politica dal canto suo ha il dovere di dare una risposta immediata rispetto alla pericolosità dell'azzardo e ai suoi impatti negativi sui nostri territori e auspichiamo che ciò avvenga presto e in maniera unitaria.